buongiorno buonasera seconda i ragazzi di watch in time tornano sul mio canale per presentarvi uno swatch nell'immaginario collettivo swatch rappresenta orologi semplici di plastica 300 e 200 euro in realtà e apro una parentesi che sarà molto breve grazie a questi orologini poi acquisito negli anni e nei decenni importanti maison chiusa la parentesi ogni tanto escono con una chicca nel 2019 sono usciti con il fly magic system 51 e lo hanno fatto in un'edizione super limitata non voglio spoilerare nulla lascio poi raccontare l'orologio ai ragazzi di watch in time metto il loro canale qui in description mi raccomando sono agli inizi ma hanno sia orologi molto interessanti e sono bravi anche a parlarne lo fanno soprattutto in lingua inglese stanno rodando un pochino il loro canale mi raccomando diamogli supporto per quanto riguarda il mio iscrivetevi chiaramente campanella il video like commentate e condividetelo sulle varie piattaforme account instagram ve lo metto come sempre qua in sovra impressione oramai lo sapete potete iscrivervi e poi anche in privato se volete commentare o farmi domande adesso la linea va ai ragazzi di watch in time ciao paul ciao ragazzi e ancora siamo noi i ragazzi di watch in time che vi portiamo oggi una una nuova review su un pezzo che riteniamo molto interessante che vorremmo condividere con voi e allora vedete già il nome direttamente il system 51 di fly magic e vi parlerò di un orologio molto diciamo limitato perché alla fine ne sono stati fatti almeno di questo modello in particolare che vi farò vedere 500 pezzi in tutto il mondo un orologio molto interessante e che si presenta come vedete in una scatola di alta qualità comunque è paragonabile al prezzo a un prezzo che vi dico già vi sveglio è un prezzo di listino che al momento quando è stato acquistato da me è stato dei 1500 euro però che oggi viene rivenduto da crono 24 o nei altri siti su di orologi lo troverete dai 3000 fino ai 5500 se siete fortunati di trovarli perché questo è l'altro discorso essendo stati fatti solo 500 ma di cosa parliamo parliamo in realtà di uno swatch bene e magari molti di voi siete sorpresi perché quanto me mi risulta negli ultimi anni non abbiamo mai parlato dei orologi swatch che vadano oltre i 1000 euro di valore e ebbene questa è la situazione swatch si è lanciato in un mondo diverso da quello solito loro per produrre un pezzo molto interessante che vi farò vedere ecco qua come si presenta questo è il fly magic come avete visto la scatola si presentava con una finestra e come vedete la scatola comunque molto bella allora che cosa è il fly magic il fly magic in realtà è stato l'orologio scelto dal gruppo swatch che nel 2018 ha fatto una collaborazione con mode mappiche assolutamente con gli stessi e per lo sviluppo di un di un nuovo sistema di diciamo di molla del bilanciere che sia totalmente antimagnetico che sia anche una tecnologia totalmente innovativa e questa l'hanno chiamato il niva cron che lo sviluppato il gruppo swatch in collaborazione con adi mappiche allora il primo orologio che loro hanno scelto per inserire questa mola e presentarla al mondo è stato proprio questo orologio di tutti i brand che sono parte del gruppo swatch swatch ha deciso di fare una cosa diversa lanciarlo non su un long jeans non su un omega ma lanciarlo su uno swatch però uno swatch diverso al solito loro e come vedete si presenta in maniera molto impattante molto interessante sono 45 mm per cui è un orologio importante ma è un orologio che sicuramente non è per tutti i polsi e si presenta con delle caratteristiche che risultano riconoscibile al gruppo riconoscibile ma allo stesso tempo non è uno swatch ritroviamo qua il cinturino classico dello swatch con con i tre punti di ancoraggio vediamo che la casa comunque presenta una forma interessante con questo che possiamo chiamare una quasi ghiera non funzionale che però ci ricorda un po magari alla quella che la turbina di un aereo probabilmente il modello si presenta con queste linee molto pseudo futuristiche che però non sono lontane a modelli che in passato hanno magari prodotto la swatch alcuni limited edition ovviamente non di questo valore come vi dicevo questo è il primo movimento che loro hanno deciso di introdurre con questa questa molla innovativa e niva cron che potete osservare molto bene lì e allo stesso tempo il meccanismo che lo monta però il loro meccanismo classico che viene utilizzato automatico in tutti i suoi altri orologio che il system 51 di solito il system 51 è girato per cui voi avete la finestra di apertura per osservarlo dall'altra parte sotto l'orologio adesso vi lo farò vedere in questo caso invece ce l'abbiamo sopra ce l'abbiamo sopra perché hanno voluto fare questo effetto scheletrato che permetta all'utente anche di di osservare questo meccanismo allo stesso tempo come vedete il rotore che presente nella parte superiore totalmente trasparente come quelli dei system 51 però in realtà questo non è un system 51 perché presenta il nome system 51 collegato in realtà 51 pezzi in realtà questo orologio presenta 66 pezzi sono stati aggiunti 15 pezzi in più per poter girarlo e portare in avanti il meccanismo allo stesso tempo per essendo il rotore come ovviamente sopra hanno lasciato i secondi che è questa questo questa ansina qua che si gira in anti orario vi faccio vedere se riusciamo a caricarlo con un paio di mosse e come vedete comincia a spostarsi poi ci abbiamo la lancetta delle ore la lancetta dei minuti tutto in colorazione dorata allora ritornando all'orologio come vi dicevo la swatch lo lancia nel 2019 con l'intenzione di lanciare per la prima volta e in maniera molto particolare ed esclusiva questo questo questa collaborazione questa nuova tecnologia il niva con il l'orologio uscito a luglio del 2019 e è stato prodotto in tre colorazione questa è quella rossa bordeaux c'è un'altra blu che invece è argentata e poi c'è una terza che invece nera con la cassa dorata in ppd come vedete dietro non è aperto e chiuso si presenta il gruppo swatch cinturino in gomma in questo caso adesso ne parliamo dei cinturini la cosa interessante che ne hanno prodotti 500 di ognuno per cui in totale 1500 orologi è stato molto difficile trovarli ed era molto difficile acquistarli in italia ci sono stati due di ognuna delle colorazioni a disposizione io per fortuna sono stato abbastanza fortunato di prenderne una di quelli disponibili ed è per questo anche il motivo da una parte delle storie dall'altra parte del modello swatch che si presenta per la prima volta con un orologio che quasi ai livelli di di un long jeans o di un omega in termini di qualità manufattura anche se il meccanismo è il meccanismo system 51 che è un meccanismo prodotto in una catena di montaggio infatti non può non può avere una manutenzione se si rompe deve essere sostituito tutto però allo stesso tempo presenta delle caratteristiche molto interessanti e comunque in una fascia di prezzo e di livello totalmente diversa quella solita ed è per questo che adesso questi orologi che sono comunque molto rari se siete fortunati di ritrovarlo in rivendita arrivano addirittura a volte fino ai 5000 euro comunque vi faccio vedere brevemente anche la scatola la scatola si presenta come dicevo una scatola di ottima qualità molto simile a quelli dei bigger brands del gruppo swatch e presenta in oltre due cinturini in pelle questo lo dicevo in quello in gomma bordeaux che utilizzo di solito quando fa caldo e poi c'è questo in pelle colorazione beige e poi c'è uno bellissimo in pelle sempre colorazione bordeaux viene con un strumento per cambiarlo eccolo qua che è molto simile a quelli utilizzati da omega e poi qua troviamo ovviamente tutti i manuali di istruzione le garanzie eccetera di swatch come avete potuto vedere si presenta come un orologio veramente veramente unico molto particolare e avevamo tanta voglia di condividerlo con voi di farvelo vedere siamo anche curiosi di capire i vostri commenti cosa ne pensate ci sono sempre tante opinioni diverse sul gruppo swatch e niente con questo vi lascio facciamo semplicemente una prova al polso molto veloce così avete anche un'idea di come di come uno può portare questi 45 mm di orologio che come vi dicevo è sicuramente importante come come però in un polso come il mio che è più o meno di 19 centimetri e come vedete riesco a portarlo senza nessun problema si presenta in maniera molto interessante e devo dire che sicuramente è un orologio che chiama l'attenzione per la strada mi hanno fermato più di una volta per chiedermi che tipo d'orologio era eccetera con questo vi saluto e passo la parola a te Paul sicuramente questo swatch ha un senso collezionistico molto alto non mi piace utilizzare la parola investimento non lo faccio mai però è chiaro che quando viene acquistato a 1500 euro e l'anno dopo lo si trova già a quasi 3000 non voglio neanche pensare tra dieci anni poi probabilmente non sarà così però è chiaro che un orologio di un'azienda come swatch di quel livello in quel limited edition può realmente arrivare ad acquisire i valori importanti nel futuro beh staremo a vedere ringrazio ancora molte ragazze di watching time noi spero vi sia piaciuto il video ci vediamo alla prossima ciao ciao